Nuovi EGXL di Shimano, i nuovi artificiali studiati per la pesca ad edging direttamente dai pro giapponesi. Prodotti in due versioni, la versione Rattle e la versione 4x4 Loudness, sono degli artificiali perfetti per affrontare le più disparate situazioni della pesca ad edging a gefalopodi. La versione Rattle, come dice il nome stesso, è caratterizzata dalla presenza di biglie sonore in alcune camere che producono un rumore molto attrattivo per i gefalopodi. Di base si sarebbe studiato il suono emesso dal gefalopode maschio, in modo da attrarre sia la femmina e sia altri maschi che tentano di scacciare l'intruso dal proprio territorio. E' così adescante questo genere di rumore che già in fase di caduta è possibile ottenere degli attacchi. Molto spesso ci è capitato, sia con sepi che con calamari. La versione 4x4 Loudness si differenzia dalla precedente per un maggior numero di biglie, un numero doppio, e per un'azione più frenetica. Il nome stesso indica il modo migliore per adoperarlo, ossia è stato studiato per un recupero eseguito con 4 cercate e 4 secondi di pausa, in modo da far fare un movimento scodinsolante all'artificiale seguito da 4 secondi di pausa. L'affondamento in entrambi i casi avviene in una prima fase se noi lasciamo il filo in bando di testa per poi stabilizzarsi in una posizione differente, in una posizione più orizzontale, in modo da produrre un effetto molto particolare e anche da produrre una variazione in termini di rumore. Noi possiamo però gestire il grado di affondamento di queste esche con la tensione del filo, perché se noi manteniamo il filo in tensione riusciamo a produrre un affondamento più stabilizzato e quindi meno veloce. Le misure sono le tipiche e le più redditizie per i nostri mari, sia per quel che riguarda le distanze di lancio, sia per quel che riguarda l'apprezzamento dei geofaloppo di stessi. Per quel che riguarda la versione Rattol abbiamo 2,5 e 3 con diversi gradi di affondamento, per esempio la misura 2,5 che è la tipica misurazione giapponese affonda 5 secondi al metro, ossia impiega 5 secondi per ottenere un metro di affondamento. La versione da 3, leggermente più pesante, affonda con una velocità di 3 secondi al metro, ossia impiega 3 secondi a percorrere un metro di affondamento. A proposito di pesi, le varie versioni hanno appunto una diversa grammatura, la misura da 2,5 pesa 10 grammi nella Rattol e 11 grammi nella 4x4 Loudness. Le misure da 3 hanno una grammatura rispettivamente nella Rattol di 14,5 grammi e nella 4x4 Loudness di 15,5 grammi. Questo ovviamente produce una diversa velocità di affondamento che, come abbiamo detto, può essere interessante a seconda delle condizioni, anche in base alla presenza di vento o in base al recupero che dobbiamo effettuare per avere la risposta ai nostri predatori. Per esempio, la versione Rattol si presta a recuperi più lenti, la versione 4x4 Loudness si presta a recuperi più frenetici. Le colorazioni sono molteplici, sono in grado di affrontare qualsiasi situazione. Si va da colorazioni naturali che imitano il sugherello o la poga, prede tipiche per i cefalopodi, a colorazioni assolutamente di fantasia. Ricordiamoci che i cefalopodi sono particolarmente attratti dal contrasto per il loro peculiare modo di vedere i colori, praticamente quasi, potremmo dire, daltonici. Quindi questi contrasti creano una grossa attrattiva sia per seppie che per calamari che per polpi. Alcune versioni sono dotate di una doppia colorazione, in modo da offrire una doppia possibilità di cattura a chi le utilizza. Gestello armatura sono prodotti in acceio giapponese di altissima qualità, perché ogni componente in questi artificiali è studiato fino al minimo particolare. Sono sicuro che questi artificiali entreranno sempre più nel cuore degli appassionati perché già da ora stanno prendendo grandissime soddisfazioni a tutti gli appassionati che li stanno utilizzando. Quindi ancora una volta ci vanno prodotto un artificiale dalle grandissime prestazioni ma soprattutto a un prezzo veramente interessante.